Buongiorno. Buongiorno finalmente. Ecco a voi la nostra specialità, le mozzarella di bufala. Le mozzarella di bufala. Sono normali, sono mangiabili? Sì, sì, assolutamente. Non capisco. Quando avete finito di mangiare vi faccio fare una visita della nostra azienda, ok? Grazie gentile. Grazie. A dopo. Grazie. Mozzarella di bufala. Vai alla grande. Hai sentito di quella mozzarella su tutti i giornali che volava? Eh? Sì. E poi c'era il mio. Ripeto, ripeto, ripeto. La notizia che la mozzarella volava. Stava scritto su tutti i giornali. Volano la mozzarella. Perché non ci credi? Era una bufala. Oh, oh, oh. Che? Eh, metti che vola. Comunque? Era una bufala. Appunto. E quella è la caratteristica. E queste volano. No, nel senso che era una bufala. Appunto. E in realtà uno vola l'altro. Mangia, mangia prima che...